E che vuol dire che i nostri giocatori sono usciti ufficialmente dagli spogliatori e quindi facciamogli sentire in prima della giusta cappella, facciamogli sentire! Perché stanno arrivando coloro che portano la maglia di sconera, coloro che portano la pulmiera sopra loro cuore, come lo facciamo tutti noi. Adesso è proprio il momento per portare in alto i cuori e fuori la voce! Perché, signore e signori, senti in campo la nostra scuola! Sega Freddo Virtus. Brava la scuola! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.